stamattina mi sono svegliato con tanta voglia di produrre qualcosa di buono allora mi sono detto perché non rinnovare questo affare che contiene i bidoni della differenziata uno per estetica due perché è più sicuro tenerli qua dentro perché ci sono animali selvatici in giro cinghiali gatti cani lepe e quant'altro quindi ho del materiale che mi ha pensato quindi non dobbiamo comprare nulla iniziamo quest'opera per il progetto cercheremo di utilizzare anche del legno riciclato la nostra vicina smantellato del legno l'abbiamo recuperato ce l'ha regalato e quindi utilizzeremo del legno riciclato costruiremo una specie di tavolino per in parole povere e poi lo rivestiremo con dei pannelli usb che poi verranno colorati sarà una bella veduta e spero di riuscire a fare anche un bel coperchio e se ci divertiamo iniziano i tagli il legno è tutto tagliato tranne i pannelli che verranno tagliati in un secondo momento adesso passiamo all'assemblaggio assemblaggio verrà fatto così gamba con telaio e quindi abbiamo realizzato questa specie di tavolino rovesciato è arrivato il momento di tagliare il pannello usb per poi andarlo ad incollare sul frontale beh devo dire quasi perfetto tranne qualche piccolo errore di taglio ma non sono falegname siccome ho risparmiato e non ho messo una base per addrizzare il legno perché sicuramente è storto il pavimento in pendenza sto usando questo sistema di morse alla fine sarà il pannello a mantenere dritta la struttura adesso mi occuperò del coperchio e poi infine dei laterali taglio fatto anche abbastanza preciso adesso ci fissiamo le cerniere speriamo che due bastino adesso stiamo realizzando i laterali abbiamo finito tutto ci manca la maniglia ma prima la maniglia bisogna pitturare io utilizzo una guaina liquida durata garantita 8 anni quindi che la trovo nei commenti beh devo dire non è venuto male ultima cosa ci rimane da fare mettere la maniglia aspettare che si asciughi tutto e poi riempirlo di spazzatore sono stanco per aspettiamo mia moglie vediamo che reazione beh amo che ne pensi non è fresca ti piace ci possiamo mettere anche a te se vi è piaciuto il video iscrivetevi al nostro canale youtube seguiteci e ci vediamo alla prossima puntata non solo youtube facebook instagram tic toc eccetera eccetera